Dottore, ho un problema. Non vedo più niente. Come lei non vede più niente? Eh, non vedo più niente perché non vedo più niente. Allora, contiamo col test. Ha mai fumato? Mi stai chiedendo se ho fumato. Mai, mai. Ok, abbiamo visto che non ho fumato. Allora, ma lei cosa mangia a pranzo? Dio, a cosa c'entra? Beh, c'entra perché le carote sono per la vista. Ha mai mangiato carote? Eh, le mangio ogni giorno. A posto, zio, vola!